Il Papa è la politica. Benedetto XVI benedice il nuovo clima presente in Italia. Il dinamismo economico e sociale in Italia negli ultimi tempi si è affievolito ed ora bisogna uscire da questa situazione. Questa è l'analisi fatta dal Papa in occasione dell'Assemblea della CEI, la conferenza episcopale italiana e quindi davanti a tutti i vescovi. La collaborazione che si registra oggi tra le forze politiche è un grande passo in avanti che potrebbe produrre benefici inimmaginabili a favore di tutta la società italiana. Il discorso è stato incentrato sugli aiuti alle scuole private, alla famiglia, alla vita. Sull'immigrazione ha sottolineato la necessità del rispetto delle leggi che provvedono ad assicurare l'ordinato svolgersi della vita sociale sia all'interno dello Stato che nei confronti di chi vi giunge dall'esterno. Ascoltiamo comunque alcune parole del Papa. Evidentemente questo clima ha bisogno di consolidarsi e potrebbe presto svanire se non trovasse il scontro in qualche risultato concreto.